La disponibilità di nuovi farmaci ha cambiato l'approccio terapeutico del mieloma multiplo. Daratumumab è una valida opzione terapeutica per cui i pazienti che sono andati incontro a una prima recidiva o non rispondono alle prime terapie. Ora Daratumumab è disponibile e rimborsato anche nella formulazione sottocutanea, con una significativa riduzione dei tempi di somministrazione del farmaco. Questa nuova combinazione ha il vantaggio di aver dimostrato un'efficacia anche in quei pazienti in cui i trattamenti convenzionali già allargamente utilizzati hanno fallito e in questi pazienti la malattia è diventata resistente a questi farmaci. Questa nuova combinazione quindi ci permette di avere un'arma in più per trattare questa malattia quando diventa resistente ai farmaci attualmente comunemente utilizzati. Nella sua formulazione sottocutanea Daratumumab è anche la prima terapia specifica per il trattamento dell'amiloidosi, una malattia del sangue per la quale i bisogni di cura erano ancora insoddisfatti. L'amiloidosi è una malattia rara ed è una malattia particolare perché c'è un piccolo tumore del sangue che produce una sostanza tossica per cui il tumore non si manifesta in quanto tale ma si manifesta per il danno prodotto sugli organi e quindi è una malattia molto difficile da diagnosticare e da curare. Come tutte le malattie rare è stata una malattia orfana anche per tanti anni per cui per noi la giornata di oggi è una grande acquisizione, siamo veramente contenti, non avevamo mai avuto risultati simili prima di ora. Dobbiamo fare informazione presso i medici di base, i cardiologi nel caso specifico dell'amiloidosi e perché questi abbiano maggiore conoscenza e presa in carico e conoscono quelli che sono gli elementi distintivi di questa patologia, non venga confusa con altro, non venga sottodiagnosticata e possa essere come succedeva per il mio Roma a tempo addietro dove malattia poco conosciuta e le diagnosi erano molto più difficili da attuarsi in tempi stretti. Oggi anche su quello sta cambiando ma è la consapevolezza che porta a questo.